Taglia il prestigioso traguardo della decima edizione, la rassegna Vaghe Stelle dell'Orsa, una rassegna dedicata alla poesia, poesia che incontra la musica. Tre appuntamenti di luglio per questo appuntamento che si rinnova e che da due anni vede l'unione con l'Associazione Amici della Prosa. Esattamente, ricominciamo il 5 luglio e poi continueremo il 12 luglio e i nostri tre appuntamenti si chiederanno quelli del 19 luglio. Come dicevi giustamente tu, è il secondo anno insieme a GAD, Amici della Prosa, quest'unione fa teatro, prosa e poesia che continua con grande felicità da parte di Vaghe Stelle dell'Orsa. Siamo alla decima edizione, è detto bene, un traguardo molto importante per noi e anche quest'anno tre appuntamenti ricchi di poesia contemporanea e anche però di musica. Ho voluto coinvolgere quest'anno almeno tre musicisti ventenni, quindi giovani e poi una piccola novità di questa edizione è che le serate saranno chiuse da giovani stelle, forse di domani, ovvero dagli studenti pesaresi che verranno a leggere alcuni dei loro testi. Ogni serata, così come da due anni, questo credo sia il terzo che ho deciso di fare così, ci sarà un poeta che non verrà a leggere, a declamare i propri versi ma verrà invece a ricordare una voce importante della poesia del passato. La prima serata, mercoledì 5 luglio, diciamolo ai musei civici, la nostra casa, alla casa di Vaghe Stelle, è sempre stato il bellissimo cortile con la scenografia dei libri di un'opera di Rossini, musei civici alle ore 21, la prima serata omaggeremo Davide Maria Turoldo, grande voce poetica del Novecento, la seconda ci sarà un omaggio dedicato a una poetessa che io amo molto che è Silvia Platt, alla quale insieme ad altri poeti ho dedicato un recital che ho portato in scena recentemente, l'ultima volta gradara con Cristian della Chiara e poi l'ultima serata omaggeremo un poeta che è stato ospite proprio alla prima edizione che è scomparso recentemente ed è una bellissima voce marchigiana ma è una voce poetica di tutta la poesia italiana ed è Francesco Scarabicchi. La decima edizione di Vaghe Stelle dell'Orsa ha anche avuto una sua anteprima il 25 maggio col recital scritto dalla stessa Laura Corraducci per Anna Akmatova, Sopra di me è soltanto il cielo, una serata che dalla Sala della Repubblica del Teatro Rossini ha fatto da prepista a quello che poi è il festival di luglio. Vaghe Stelle dell'Orsa è una rassegna di poesia che io curo per la biblioteca storica Vittorio Bobbato, per l'assessorato alla bellezza di Pesaro e le serate saranno in caso di pioggia nella bellissima chiesa dell'Annunziata. Ricordiamo che da tre anni, dall'epoca della pandemia, noi portiamo avanti anche la diretta Facebook sulla pagina di Vaghe Stelle dell'Orsa o sulla mia pagina personale Laura Corraducci che nel periodo della rassegna è solo tesa a parlare di poesia. Direi che la diretta Facebook è un mezzo importante perché consente alle persone che non sono della nostra città di poter seguire, quindi l'anno scorso e negli altri anni abbiamo avuto diverse visualizzazioni. L'estate di Pesaro continua e inizia e spero proseguirà per molto tempo con la poesia.